Abbiamo un po' guzzato l'ingegno perché non potendo aumentare i prezzi l'unico modo per salvarsi è ridurre i costi. Arriva ad Arezzo un sistema fai da te per monitorare i consumi del gas. Ad idearlo Marcello Comanducci, ex assessore del comune di Arezzo, grande appassionato di innovazione ed albergatore. Noi in questo momento stiamo vendendo le camere a una cifra che non abbiamo idea se è a rimessa o a guadagno. I prezzi schizzati alle stelle fanno infatti temere oggi gli imprenditori con gli occhi puntati sul contatore. Stanco di fare la spola tra ufficio e scantinato, Marcello Comanducci ha così costruito l'innovativo sistema. Mi sono inventato questo piccolo microcomputer che ha una piccola telecamera ed è programmabile che grazie a dei software di intelligenza artificiale scatta con questa microcamera una foto al contatore e questo mi genera una dashboard dove io vedo in tempo reale, praticamente ogni mezz'ora, ma è un settaggio che ho fatto io, i consumi. Quindi grazie a questo piccolo sistemino siamo riusciti a monitorare e a fare dei test che ci hanno permesso di risparmiare quasi il 15%. Molti hotel in questi ultimi mesi hanno visto lievitare anche del 500% i costi legati a luce e gas. Ad oggi siamo a 126.000 euro in più di anno scorso tra gas e luce. A preoccupare ulteriormente adesso l'arrivo dell'inverno. Noi siamo ancora tutti aperti grazie a un incremento enorme del turismo ad Arezzo ma in generale in tutta Italia e soprattutto a un mese e mezzo che il tempo ci ha graziato perché è quasi un mese che noi siamo con aria condizionata spenta e riscaldamenti spenti. Queste due cose non ci saranno sicuramente a gennaio e febbraio quindi o veramente c'è un cambio di rotta a livello nazionale e europeo o credo che le strutture ricettive non possono reaggere a queste tipologie di bollette.